Mario Salvatore Scarpitta, il sindaco di Camerota, ha destinato una quota parte dell'indenità di funzione da sindaco per un importo pari a 1000 euro a favore dell'Associazione Spontanea di Cittadini che si occupa di mantenere e far funzionare il Museo Civico di Lentiscosa, mentre con altri 1200 euro garantirà la connessione internet agli alunni della scuola secondaria di primo grado in modo da garantire agli stessi di seguire le video lezioni. Non è la prima volta nel corso del suo mandato, il sindaco ha già rinunciato all'indenità per i suoi concittadini. In passato ha regalato aree verdi e di divertimento ai bambini, opere di messe in sicurezza per le scuole, un'aula informatica per la scuola elementare e media di Marina di Camerota, strumenti musicali per la scuola di musica di Camerota, materiale didattico alla scuola dell'infanzia, una televisione per la scuola dell'infanzia di Licusati e una per la scuola elementare di Lentiscosa e infine le iscrizioni ai campionati per le squadre di calcio di Camerota, Lentiscosa e Licusati.